un caro saluto a tutti da marzia di hobby shop bomboniere.it telefono 0 3 7 5 5 9 1 4 1 laurea in vista una bellissima occasione di festa da condividere con amici e parenti noi siamo pronti ecco la scatolina tocco di laurea di colore nero con la deliziosa coccinella in legno porta fortuna completano bigliettino nastrino rosso e il nastrino stampato con la scritta laurea e sempre il tocco dall'altra parte quindi un pensiero gradito a tutti ideale per laureande e laureandi saluti a tutti